Ciao a tutti ragazzi da TFG. Intanto 10.000 mi piace solo perché lui ha vinto il baule magico. Magico col tuo account per farti vedere come giocare tra l'altro. Ma pensa quanto sono bravo. Però scusa perché lo sto aprendo io? Guarda prendo l'ipat e lo consegno al Sire. Per il fatto Sire vada. Ah subito quello magico. Mi piace un sacco questa cosa. Bombarola, Felmo, Tre Moschettieri, Spiritale del Ghiaccio. Adesso viene fuori l'epica? No, la c'è epica, la c'è epica. Epica. Vabbè hai fatto una cosa da potenziare a te, scusa. Guarda quanta roba hai tirato in quel baule lì. Aspetta eh. Non finiva più di uscire carte. Vabbè, da potenziare a momenti che sto usando sta roba qua. Vabbè io potenzierei quel golem di ghiaccio eh. L'ho rivalutato ragazzi, l'ho rivalutato. Non mi gusta cioè. No, no, no fidati, rompi i coglioni. E' parecchio. Ma potenzia, lo usi? Prova. Livello 10. Dove portare anche a lui? Lo puoi portare al... No, non hai momentine. No, ma non l'avrei neanche fatto. Perché no? Perché non ho abbastanza cose. E cosa chiede adesso? Adesso chiedo... Ah, il gigante lo vuoi portare al 9, ah quel bastardo. Esatto. Vai battaglia? Battagliamo? Battaglia, battaglia, vediamo un po'. Che d'accordo? Ah sì. Che d'accordo? Quello di l'altro, come ho detto io, metto il golem di ghiaccio. L'ultima volta giocato io, adesso ovviamente ci prova Rinnegan. Metto la princess? Eh sì, intanto per romperli coglioni. La metto subito qua? Eh sì, è giusto per romperli coglioni, visto che non puoi fare nient'altro. Uh, palla di fuoco su quel cazzo di estrattore. No, no, il golem di ghiaccio allora, via. Il golem di ghiaccio e lo stronzetto da 3, direi. Se si lo uccide. Bah, bah, uccidilo, uccidilo, uccidilo. E poi il domatore. No, il domatore è dall'altra parte. Il domatore è dall'altra parte. Perfetto. Mi stavo usando. Pronto con la zappete? Pronto con la zappete. Che non la... non serve, perché non sta mettendo nessuna cruppa. Perché ti lascia... Attenzione, metti i barbari, esatto. Non serve, poi li muore. Non mi interessa. Vabbè, vabbè. Mi muore il primo. Va bene, ok, è morta prima, come hai voluto. Ok, ma guarda quanto sono forti i barbari scelti, veramente. Cioè, hanno uccidito. No, non riesci a prendermi la roba. Oh, comunque livello 11 hai i tuoi barbari, complimenti. Grazie. Bravo, bravo. È lui che fa l'orologio. Ok, perfetto. Adesso la principessa da uccidere quel coso. Mi interessa che lui uccida il mago. Aspetta. Eccolo. Ok, così si è girato, vedi. Si è girato, non colpisce la torre. Esatto. Adesso usa la zappa, perché quella lì... Eh, no, non serve, non serve. Muore. Peccato, peccato. Beh, allora usa il... Aspetta, che lui vuole mettere la strega del barbari scelti, sono sicuro. Metti adesso il dragetto infernale contro la strega. Ma perché ho messo questo? Perché ho messo qua la roba lì. Scusa, non so. Palla di fuoco. BAM! Perfetto, ho giocato bene questa. Perfetto. Golem di ghiaccio. Ti vorrei mettere, golem di ghiaccio e domatore dietro. Ti prego, metti... Eh, lo so. Eh, niente. No, vediamo la estima che fa un po' di danno a tutta. Beh, però il barbari un colpo l'attore lo dà, eh. Anche due, anche due. Perfetto. Perfetto. Vabbè. Poi è un livello 10 comunque questo, eh. Cioè, adesso mi sono reso conto, eh. Ma è un livello 10? Sì, ma ormai trovo sempre gente... Eh, perfetto. Muori, 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 muori. Ma allora, io il cavaliere nero sinceramente non riesco a capire che senso ha usato. No, è comodo, è comodo. Ma, va, è scasso. Eh, sì, è comodo. Vai di dormatore. Vai di dormatore per particolare. Oh, merda. Oh, merda! Morin! Cazzo! Golem di ghiaccio. Ho sbagliato. Minchia, sei sbagliato. Bom, bom. Guardi, è andata bene. Però, però, potrei buttare giù l'attore se si scade meglio, cazzo. Occhio, 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 il Golem di ghiaccio. Il draghetto infernale, tutto di tutto. Tutto questo che mi fermo indietro? Merda, più che altro è rimasto vivo il mago, sai? Eh, lo so. È un bel casino questo, eh. Cazzo, cazzo, cazzo. Zappa. Zappa, zappa, così incide il mago, bom. Va bene, il mago di ghiaccio, Golem di ghiaccio, giusto. Eh, ok, ok. Dai, che mi incide dei barbari. Barbari, 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 barbari. Ok, ci sono due danni zone, è quello il problema. Vabbè, muore subito la strega. 3 tagliazione, cazzo, 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 para di fuoco, ottimo. Vesco, li muore, prima di... Oh, perfetto, boh, ti sei difeso bene, ti sei difeso. Merda! E che palle, oh, però. Andrei se ne accadevamo proprio la torre, no, no, no. Il Golem di ghiaccio, esatto. No, non riesco. Eh, usa il draghetto infernale, qui si sta. Lo metto lui. Il barbari. Sì, sono te l'ora, scelgo dentro a questo. La, la para di fuoco, ve lo scelgo prima che si sposti per la fila. Ok, perfetto. Eh, muore pure, oh. Perfetto, eh, con l'imuore. Aspetta, devo spostargli la carica sua. Ok, buono. Devo ucciderlo con questo. Che c'è messo? È il... Ah, ok, perfetto, ci sta. Ok, ci sta, ci sta. Eh, però non riesci ad attaccarlo. Vedi, lui mette troppo in continuo che ti uccidono le tue. Non riesci ad attaccarlo, no? Ha troppi danni a zona. È quello. Non pioce di scatola. Troppi, troppi danni a zona. Eh, beh, giusto, perché però di fuoco così? Sì, sì. Ah, però è preso la strega, alla fine. No, 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 no. Non lo so. Fa 200 danno quella roba lì. Adesso muore la strega. Merda. Barberi, 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 barberi. Ottimo, perfetto. Eh, hai fare giatto. Ho fatto veramente una partita. No, è che ho sbagliato in quella prima. Hai sbagliato in quella prima, sì, perché sei stato più stretto poi a difenderti per tutta la partita. Quando invece avresti potuto buttare giù la torre. Quindi facciamo un attimo una roba. Trovi un livello 9 adesso. Ma il livello 9 comunque... Si sono sorti. Si sono sorti. Se li vanno 10, tu guardi. Ok, perfetto. Mettiamo quello e streghettarie. Guarda capirla. No, no, sta colpendo il male di Ghiaccio. No, sta colpendo il male di Ghiaccio. Sì. È la... È la... Il mago di Ghiaccio e la Valkyrie che mi stanno colpendo le truppe. E... Bom, 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 va bene. Ci sta. Dai, alu che impororologico. Merda. È un paio di coglioni, però... Eh, niente, niente. Non avremmo... Non avevo desider per metterlo. Questo è il punto. Non avevo desider per me. È giuratore. È giuratore. Beh, è chiaro. È chiaro. È chiaro. È... Da, c'è di c'è di c'è di c'è di quella cosa. C'è di là. Bene. Bene. Adesso faccio cos'è. Cosa amiglioso. Adesso faccio per te. Ma di qua. Perfetto. E... Balla di fuoco sulla torre. Sì. Un'altra roba del genere, però... Non è andata molto bene. Sai che non riesco a scusare i barbari scelti? Ma cosa? Non riesco. Ma cosa ci vuole? Li metti? Ah, punto. Sono una merda. Li metti gli ucciti. Ma sono cosi da sfigati i barbari scelti? Li metti e muoiono tutto. Uccidono tutto. Cioè, non è che ci vuole un genio, eh. Per di più, se sono a livello alto, sono una roba più schifosa. Io ce li ho all'11. Posso dire già che all'11 faccio non fanno schifo. Adesso li metterà di qua i barbari scelti. Non si puro, guarda. Dei qua dove, scusa? Da quel lato lei. Di la sinistra o al centrale? No, forse a centrale a questo punto. Ma aspetta, eh. Così. E... Dai, me lo uccidi, grazie. Bella giocata, grazie. È molto gentile da parte tua di me. Fata una bella giocata. Cioè, che tu vedessi. Ah, adesso lui deve difendere di qua, giusto? Io non so. Basta quello lì per difendere. Adesso lui ti mette... Aspetta, aspetta, zap. Oh, ho giocato benissimo la zap. Perfetto. Ti metti i barbari scelti di qua. Se avessi i barbari scelti o c'è i barbari normali, in teoria fra poco. Muori quel cazzo di coso. Muori, 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 senza dare un colpo alla torre. Perfetto. Adesso... È un minuto per abbattere almeno una torre. Eh, lo so, eh, lo so. E non è facile. Pala di fuoco. Pala di fuoco qua. Ottimo. E qua uccido questo. Bam. Ah, lo uccido con la palla di fuoco. Cazzo. Eh, l'ho chiesta per niente. Ok, perfetto. Proviamoci con la zap. Ok, giusto per dare un colpo alla torre dovrebbe darcelo, perfetto. Ok, va bene. E adesso con la palla di fuoco va giù. Barbari pronti per difenderti. Spaticamente il golem di ghiaccio di qua. E barbari qua così. E qua invece metto lui. Perfetto. Palla di fuoco di là. Palla di fuoco di là. 30 secondi. Aspetta, metto questa. Metto questa. Non ce la fa. Dai. Palla di fuoco. Adesso la metto, adesso la metto. Stai tranquillo, tu sei troppo accettato. Che è perfetto. Come siamo zap. Zap, zap. Ok, perfetto. Perché devi ricordarti che io ho già, ho il vantaggio che ho già due torri ben colpita, direi. Molto ben colpita. Perché l'altra me stanno da giù. Non c'è un'altra centra, il domatore. Merda, ma è ancora un'altra domatore. Un trugano. E lo c'è, 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 lo c'è. Per colpire, è zappo e ho vinto. Visto? Bravo, bravo, complimenti, complimenti. Vediamo se mi metto un altro baule. Vediamo se ho vinto un baule leggendario. Dai, 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 dai. No. Vuole d'oro. Schifo. Vuole d'oro. Vai, rimediamo. Vedi tu adesso. Ok, una l'hai pareggiata. Scusami. Ah, non l'ho fatto apposta. Ah, mi uccidi, cazzo. Rinnegan ti affeggi. Dai. Dai, via. Vedi domatore, vai. Vai, butta quel domatore. Adesso vediamo come lo uccide. Ah, hai visto? Stava andando verso sedestra. E poi ha detto, no, perché non colpire la torre? Esatto. Oh, una cosa intelligente l'hanno fatto. Allora, sai cosa faccio? Cosa? Adesso metto il golem di qua. Perché? Tanto è così lento. Io butterei la palla di fuoco lì, così colpisce il Valkyria, torre e torre inferno. Ora, perfetto. Perfetto, cazzo. Proprio lineare. Pulito. Facile. Aspetta, che lui è... Va bene il drago infernale. Perché me ne hai messo più avanti, così colpisce il Valkyria. Perché adesso faccio il Valkyria. Aspetta, 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 guarda. Tac. Stato col piede il gigante, non capisco. Gigante, gigante. Ok, perfetto, ottimo. Non ha dato neanche un colpo la torre. Ok, adesso muore quello lì, è vero che muore. Perfetto. Rompe le palle a quel polo lì, eh. Per particolarla, per particolarla, zappa. Ecco, vedo. Zappa, zappa. Merda, dietro. No, va bene, non importa. No, intanto c'è il golem di ghiaccio lì. Il golem di ghiaccio con il pusciatore, insieme ai barbari, che fanno, buttano giù tutto, dai, è fatto. Ok. Non so se difendermi da questo reato adesso. Sì, butta la principessa, perché fanno male quelle cose lì. E dopo di là, subito di qua, metti il domatore. Aspetta, che c'è quello lì. No, c'è lui. Ma no, 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 non fastidio. No, moriva lo stesso. Non mi ingresso. Potevi attaccarlo dal lato opposto, non aveva l'isir più lui. È vero. Non aveva più l'isir, aveva messo il mago, aveva messo il mago per ricoprire gli sgherri, che aveva fatto fuori 5 dell'isir. Un colpo, ho due colpi la torre. Vabbè, metti il domatore dietro e subito davanti il golem di ghiaccio. Qua lo metto. No, boh. Così ho il tempo che carichi e più. È veloce il domatore. Appunto. Ok, perfetto. Ok, guarda che ha messo la torre. Aspetta, che adesso mette. Eh, la zappa, la zappa, la zappa, la zappa, la zappa, la zappa. Ok, il mago, il mago di golem è il mago. Il golem di ghiaccio è vivo. Vabbè, però adesso, anche a lui muore il gigante, però. Questa è il sole. Sì, muore. Eh, dai, il mago deve morire subito male. Mergo, non è morto. Metti il domatore di fa, velocemente. Mettilo, metilo, metilo, metilo. Bravo, giusto così, bravo. Giusto. Ok, zappa, che adesso avrà il tog. Bastardo. Però la torre la potessi da stesso. E anche due colpi, anche forse il terzo arriva. Perfetto. Tre colpi alla torre, hai dato. Ok, aspetta che pure lì mi preoccupa, non piacereci da sinceri. No, basta che metti. Qua direi, zappare o barbari. Ok, perfetto, barbari. Ma è la zappa, 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 zappa. Oh, è la madonna, le uccide, però. Eh, ti ho detto, ho potenziato la zappa io. Eh, madonna, cazzo. Eh, sì, certo. Vedete, palla di fuoco, palla di fuoco, vedete che fa di un colone. Vedete che fa di un colone. No, non ce la fa. Niente. Boh, vabbè, hai vinto. Male. Perfetto. Quindi, ragazzi, vediamo cosa hai vinto. Non si sa mai che vince un boll epico. È un boll epico, un boll epico. Niente. Quindi, ragazzi, se vi vi è piaciuto, lasciate tanti a me mi piace. Continuate iscrivendo al nostro canale. Ciao a tutti. E apri il bullo della corona. E apri il bullo della corona. E apri il bullo della corona. Vediamo un po' il goffi. Ordi's Gary. Niente. Che schifo, che shit. Ciao a tutti e al prossimo video.